Interrotta momentaneamente la distribuzione idrica nelle zone H24 e nella zona sanatorio, mentre rimane invariata nelle restanti zone della città di Caltanissetta, sospese invece nel comune di San Cataldo. Questa la comunicazione di Caltacqua in considerazione del livello di acqua presente nel serbatoio, avendo riscontrato una notevole riduzione di portata, circa 60 litri al secondo, al serbatoio San Giuliano proveniente da Cozzo della Guardia. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti dal gestore, che rimane intanto in attesa di comunicazioni da parte di Sicilia Acque. Fornite inoltre le indicazioni per la distribuzione prevista per la giornata dell'11 maggio nel comune di Caltanissetta, centro Balate, le H24 delle zone carcere e ferrovia, ospedale e zona via Red Italia.